Dal programma di sviluppo rurale sono in arrivo 120 milioni per il settore agricolo. Sono i risultati e non i proclami a caratterizzare l'attenzione del governo musumeci a sostegno di un settore strategico, quale quello dell'agricoltura. Lo ha detto l'assessore regionale all'agricoltura e sviluppo rurale e pesca mediterranea, Tony Scilla, in vista della pubblicazione di tre bandi destinati agli agricoltori e allevatori siciliani che interessano le coltivazioni biologiche, l'indennità compensativa e il benessere animale. Nello specifico si tratta di 60 milioni di euro per la misura 11 su agricoltura biologica, il cui obiettivo è incrementare e mantenere un sistema di produzione ecosostenibile che contribuisce al miglioramento della qualità del suolo, dell'acqua e dell'aria, alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici e al miglioramento della biodiversità. Indennità compensativa di 30 milioni è una misura importante, dice Scilla, per mantenere e far proseguire l'attività agricola zootecnica agli allevatori che operano nelle zone montane e garantire il presidio per la salvaguardia del territorio, compensando gli allevatori dei costi di produzione aggiuntivi. Per finire, aggiunge Scilla, 30 milioni di euro riguardano la misura 14 benessere degli animali che ha la finalità di promuovere il benessere degli animali attraverso specifici impegni assunti volontariamente dagli allevatori che vanno oltre i requisiti obbligatori previsti dalla normativa vigente. Grazie.